Buongiorno signori, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, in questo bellissimo impianto, vanto della città di Castelfrentano. Alle ore 15.30 ci sarà la gara, terza giornata di andata del campionato di seconda categoria, Girone E, scenderanno in campo la nostra Virtus Castelfrentano contro i squali Pescara Sud. Da questo lato si vede i nostri ragazzi che si stanno riscaldando, agli ordini di mister Marco Piccirilli, là in fondo si vede Fabio Angelucci che sicuramente fungerà da guardaline oggi, abbiamo la postazione bar che c'è il signor De Vincentis, le tribune man mano si riemperanno, qua si stanno riscaldando Loris, qua c'è Gerardo, ecco sta entrato con l'Apolo Bianca, il consigliere Adriano Gian Cristofaro, e là in fondo c'è gli squali Pescara Sud. Ci troviamo alla terza giornata con oggi, la Virtus Castelfrentano è a punteggio pieno, due gare e due vittorie. Qua si stanno riscaldando la squadra ospite, là in fondo giochicchiano i ragazzini della scuola calcio, tre di loro sicuramente entreranno con le squadre per mano dei due capitani e dell'arbitro, il signor Saraceni della sezione Aia di Vasto. Pubblico anche da questo altro lato, tribuna B, ecco anche il ragazzino con la divisa da portiere, anche lui entrerà in campo, lui per mano dell'arbitro. qua mister Marco Piccirilli e mister Gabriele di Felice e mister Giuseppe Gian Cristoforo, la triade.